Il legno è cultura, nelle mani sapienti degli ebanisti italiani, abilità artigiana perfezionata in un mondo di tecnologia, un'evoluzione che ha portato a macchine e sistemi industriali sempre più avanzati, progettati e costruiti da SCM, marchio leader nella tecnologia per la lavorazione del legno. Dalla metà del Novecento, SCM diventa il protagonista della rivoluzione industriale nel mondo del legno. Oltre mezzo secolo di innovazione, brevetti e continue sfide. Oggi SCM è un importante complesso industriale interamente dedicato alle tecnologie per la lavorazione del legno, con tre principali poli produttivi, nei quali si applicano i più evoluti principi della lean production, per garantire il massimo controllo della qualità e un notevole risparmio di tempi e costi. SCM è la più ampia gamma di soluzioni al mondo, una concreta risposta a tutti i settori industriali. Da un'infinita selezione di macchine per l'industria e la falegnameria, fino a soluzioni integrate e automatizzate e chiavi in mano, per soddisfare le esigenze di chiunque lavori in legno. Oltre mille, tra ingegneri e tecnici, provenienti dalle migliori scuole e università. talenti informati in SCM per sviluppare le tecnologie di nuova generazione. Il cliente, le sue idee, i suoi obiettivi, sono il cuore del nostro lavoro. SCM è la più ampia rete distributiva globale, garantisce risposte pronte e mirate in tutti i mercati mondiali. Oggi, SCM è uno straordinario patrimonio di competenze industriali, sintesi del know-how dei marchi che hanno forgiato le più solide e avanzate tecnologie per la lavorazione del legno, parte integrante del nostro DNA. SCM is more. SCM è parte di SCM Group, un solido gruppo, leader mondiale nel settore dei macchinari industriali, dalle macchine stand-alone ai sistemi integrati per la lavorazione di un'ampia gamma di materiali e nel settore dei componenti tecnologici per l'industria. SCM. 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 SCM.